Salve a tutti ragazzi, io sono Filippan e questa è un'altra battaglia su Total War Show V2 Vanilliam. Oggi vi faccio vedere una battaglia brevissima, il video non durerà niente, ma ve la faccio vedere perché è solo esclusivamente per la composizione di esercito del mio avversario, è una battaglia un po' trollosa. Faccio vedere un'unità che non deve mai e poi mai essere presa nelle battaglie multiplayer di questo gioco. E sto parlando, andiamo subito a vederla, ma non si vede ancora nascosta, adesso apparirà subito. Eccoli qua, i mortai a mano, stesso discorso si fa anche per le manganelle incendiarie, non so ne come si chiamano, i lanciatori tirati, tutta l'artiglieria di Shokun, di Shokun liscio che non serve a nulla. E adesso vi faccio vedere questa battaglia velocissima, in cui io giocerò malissimo, ma la vincerò solo esclusivamente per la composizione dell'esercito del mio avversario, come vi dicevo. E oltre anche al fatto che farà anche degli errori gravissimi. Eccoli qua, vedete la prima scarica dei mortai? Tante tante bombe, tante belle bombe, bom, bom, bom. Risultato? Andiamo a vedere il risultato. Mortai a mano, due kill! Tante? Altra scarica, altra scarica, ne arriva un'altra. Guardate come mi muovo male col generale davanti da solo, proprio una battaglia che devo perdere io, dovrei perdere. Finita la scarica? Quante kill abbiamo? Tre! Quindi ne ho fatto solo un'altra, cioè vi rendete conto? Poi vabbè il mio avversario mette anche gli Ashigaru con moschetti su quattro file, la cavalleria con Spingarda lì ferma, col generale, vabbè scelte quantomeno discutibili. Guardate altre scariche, qui però mi prende in pieno la cavalleria, qui in effetti un po' di danno me lo fa. Però quanto è? 13 kill? 15? 18 kill! Ragazzi, hanno già sparato quattro volte e solo 18 kill. Io nel mentre arrivo al corpo a corpo, tutto scordinato, perché il mio generale è finito in mezzo alle lance mentre mi spostavo, proprio una cosa drammatica è stata. Eppure, una volta arrivato al corpo a corpo, stravinco. Poi il mio avversario si dimentica anche le cavallerie, vabbè, mi è bastata una carica coi monaci e li ho preso anche il generale. A voi sta a giudicare quanto possono essere utili questi mortai? 21 kill vi faccio notare, io sono già arrivato al corpo a corpo, 22 kill. Un'unità molto utile effettivamente, sì sì. Guardate lì come i fuggono, che poi sono anche Ashigaru, cioè, vittoria decisiva anche perché il mio avversario quitta la partita, Rage quitta perché non poteva più fare nient'altro. Va bene ragazzi, quindi ricordatevi, mai prendere l'artiglieria Shogun 2 lice. Per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video, votate e commentate e ciao ciao.